In piena notte coltellaccio da cucina alla mano hanno minacciato e ferito il dipendente di un'area di servizio di Bisceglie nel corso di una violenta collutazione, poi si sono dileguati a bordo di un'auto guidata da un complice. Grazie alla coraggiosa reazione della vittima che ha subito avvissato i carabinieri, i rapinatori sono stati però individuati e arrestati poco dopo dai militari della tenenza di Bisceglie. Scene drammatiche quelle che vi mostriamo, girate dalle telecamere a circuito chiuso della stazione di servizio, nelle quali fa impressione la foga e la violenza con cui l'addetto viene prima aggredito e poi ferito, per fortuna in maniera non grave. In manette sono finiti due giovani, un 24enne e un 19enne di Bisceglie. A tradirli è stata l'autovettura utilizzata per la rapina, messa a disposizione da un amico dei due, denunciato a piede libero, individuata dai carabinieri in via Embriani. Messo sotto torchio, il proprietario ha fatto i nomi e i militari sono risaliti all'identità dei due aggressori, che sono stati arrestati e messi a disposizione del PM di turno della procura di Trani con Ticelli. La vittima, immediatamente assistita da personale sanitario del punto di primo soccorso di Bisceglie, ha riportato ferite da arma da taglio alla schiena e alla mano giudicate ai guaribili in otto giorni. Nell'auto dei malviventi, i carabinieri hanno trovato e sequestrato indumenti riconducibili a quelli usati dal 24enne e dal 19enne arrestati durante il colpo, oltre a due telefoni cellulari.